Io non voglio sapere quante volte mangia un bambino, ma voglio sapere come si nutre un bambino. La differenza fra nutrizione e mangiare, perché per me il benessere del bambino non nasce dalla quantità del pasto che gli do, ma dalla qualità del pasto. Il garante dell'infanzia e dell'adolescenza della campagna, Giuseppe Scialla, fa il punto sul vertice che ha riunito a Napoli tutti i garanti regionali. Un'occasione per avanzare precise richieste al legislatore nell'interesse esclusivo dei minori. E la possibilità di sollecitare le autorità legislative affinché vi sia l'armonizzazione dei sistemi nell'ambito delle diversità regionali, dei sistemi e delle competenze per ogni singolo garante. Quindi un coordinamento che sia una voce unica per tutti noi garanti. La scelta della campagna per ospitare il summit non è stata casuale. Nella nostra regione c'è la maggior parte degli adolescenti segnalati all'autorità giudiziaria, addirittura il 45% di tutti i segnalati d'Italia.